Con la buon'ora, workout numero 2, la battaglia di Milano, categoria RX. Bilanciere caricato a 145. 145, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, via! 20. 20. Carichiamo il bilanciere a 145. Due dischi da 20, questo è il secondo. Il secondo, due dischi da 10 e un disco da 2,5. Bilanciere un impiuto da 20. All'altra parte stessa cosa. Disco da 20. Secondo disco da 20. Primo disco da 10. Secondo disco da 10. Ultimo da 2,5. 47 di qua. Non è un'altra parte stessa. 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 1.30 1.50 dai Nico, è cattivo dai, dai che ce l'hai dai, bene duro, eh, dai bene, dai che tu adesso il clean dai, cattivo, cattivo vieni su, dai, dai Nico, bene dai Nico, eh, chiudilo, eh dai, su, su, su su grande Nico grazie 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 grazie